Tre le misure cautelarie eseguite dai finanzieri di Gela ai danni di tre indagati, padre, figlio e una dipendente dell'azienda che è stata anche sequestrata. Sono accusati di aver provocato il fallimento di una loro società nel settore del materiale plastico con la distrazione di alcuni beni attraverso un sistema di scatole cinesi, di acquisti e di vendite ed altre aziende riconducibili allo stesso gruppo. Proprio per questa ragione, per frodare lo Stato e per distrarre le somme di denaro che erano in potenza delle aziende. Contestualmente sono stati eseguiti anche il sequestro preventivo per equivalente di una società con sede a Vittoria e un'altra in provincia di Ragusa.